Sabato 29 marzo, nella sala conferenze di Via Sforza a Milano, membri di chiesa, pastori, pastori, diaconi e diacone si sono incontrati per il Forum 2014 del secondo distretto delle chiese metodiste e valdesi. Relazioni, opinioni, dibattiti ed esperienze in un convegno molto partecipato da più parti del Nord Italia, organizzato per il quarto anno consecutivo dalla Commissione esecutiva distrettuale. Noi abbiamo cercato di costruire l'agenda della giornata partendo da una introduzione generale sul tema della formazione e sulla valutazione dell'offerta formativa nelle chiese valdometodiste in generale, nello specifico del secondo distretto, per poi portare la riflessione da un ambito più generale a quattro perimetri più tematici come appunto la formazione della Bibbia, la formazione e la spiritualità e poi nel pomeriggio appunto la vita nella della comunità e poi infine il denaro. Un convegno pensato per dare spunti di riflessione e strumenti operativi alle varie comunità, diverse fra loro ma con problemi e dubbi comuni. Una giornata come questa a me piace molto sia perché credo che bisogna continuare a formarsi, è una cosa bellissima avere l'opportunità di formarsi e poi si possono incontrare molti fratelli e sorelle che hanno situazioni diverse ma analoghe, simili, quindi sentirsi un po' meno soli e confrontarsi con altri. Su mandato della conferenza distrettuale, l'assemblea che organizza attività per il lavoro annuale delle chiese del Nord Italia, la CED ha invitato diversi ospiti intervenuti sulle quattro sfumature di formazione. Tra di loro Teresa Buzzetti, Valdo Bertalot, Jonathan Terino e Massimo Marottoli, Solomon Duamena, Marina Morando, Giuseppe Platone, Ruggero Mica, delegato della Tavola Valdese e i consiglieri CED, Giovanni Bertalot, Roberto Mellone, Alberto Signori e Italo Pons, presidente e uscente della Commissione. Il dopoforum sarà la sfida più grossa nella misura in cui credo che oltre al confronto dovremo essere bravi a costruire delle piste comuni di lavoro per mettere in piedi il più possibile quello che ci sembra stia emergendo da questa giornata, cioè il bisogno di sistematizzare strumenti didattici e percorsi formativi in maniera che siano più fruibili e più fruiti da tutti noi. Grazie a tutti.